Oggi abbiamo festeggiato i 60 anni del rifugio Migliorero, è stato un grande momento di festa per tutti i soci del Caifossano e la ciliegina sulla torta è stato che abbiamo avuto ben tre partecipanti che erano presenti all'inaugurazione 60 anni fa. Si tratta di Memo Marcellino, Caterina Gagna e Cristina Barbero. Il Migliorero per me significa dei giorni bellissimi della mia gioventù e delle amicizie bellissime che si sono mantenute negli anni, anche se poi non ci troviamo soventissimo, quando ci troviamo è come se ci fossimo visti il giorno prima. Quel giorno lì è stato per noi una soddisfazione grandissima perché era il piacere di vedere il lavoro che avevamo fatto, che era messo in risalto ed era concreto. Io ero la più giovane, nel 62 avevo due anni, mi hanno raccontato perché non ricordo bene queste cose, ricordi un po' annebbiati, che non ho voluto naturalmente camminare, allora si intervallavano a portarmi su, però io volevo solo essere portata dalla mia mamma, poverina, ma era giovane, quindi ce la faceva. Appena mi hanno fatta scendere qui al rifugio, io non so in che punto precisamente, ma sono incascata nell'acqua. Concludendo, evviva il miglior aeroporto! Grazie! Grazie!